Era stato programmato nel pomeriggio di oggi il conferimento in carico sugli smartphone in uso agli indagati e sequestrati dalla squadra mobile di Catanzaro nel Maxi Blitz sul calcio sporco del 19 maggio scorso, che ha portato a 50 fermi e 26 indagati e delle successive perquisizioni domiciliari del 10 giugno con 6 nuovi avvisi di garanzia sulle combindi incontri di calcio in cui sono coinvolti a vario titolo dirigenti, allenatori e calciatori di numerose squadre di calcio, dei campionati di Serie D e Lega Pro e del campionato Eccellenza Calabria per gestire le scommesse sulle competizioni quotate. Ma alcuni legali hanno avanzato richiesta di procedere nelle forme dell'incidente probatorio, che consentirà nel contraddittorio tra le parti di cristallizzare le prove in un futuro dibattimento. Adesso la parola passerà al GIP del Tribunale di Catanzaro, che una volta fissata la data dell'incidente probatorio per tutti gli indagati, allo Stato 77, nominerà un proprio perito, che si occuperà di analizzare gli smartphone e soprattutto i messaggi via WhatsApp intercorsi tra le persone finite nel mirino del sostituto procuratore della distrettuale di Catanzaro, Elio Romano, cercando di stabilire l'esistenza di altre truffe e frodi sportive. Grazie!